Ancora una grande serata al Castiglioni Film Festival con il regista che ha segnato la storia degli ultimi grandi successi per la commedia italiana, ovvero Neri Parenti. Una serata che ha visto la presenza anche della stilista Regina Schrecker, dell'attore Alessandro Tiberi, insomma un altro grande appuntamento prima della chiusura prevista per domenica 18 luglio. Raccontami un po' della commedia, di quella che era e di quello che vedi oggi, momento molto difficile. È sicuramente un periodo, è finito un pochino il grande periodo della commedia, i famosi grandi incassi, questo è un po' finito anche perché in questo momento gli attori che di solito fanno grandi incassi, vedi Zalone, vedi Ficarre e Picone, vedi Verdone, vedi Siani, non fanno film perché chiaramente mancando il supporto della sala i costi di questi film sono così elevati che non li fanno. Prima o poi spero che si riprenda tutto, cioè ne abbiamo tutti voglia e bisogno di farlo perché il cinema e il teatro, che io faccio molti costumi, senza pubblico è bruttissimo, è triste, non è vita. La commedia italiana si è evoluta bene, vogliamo dirlo, nel senso che ci sono esempi di commedie notevoli, è la nostra tradizione e tutto quanto e quindi sì, viva la commedia, ma viva i festival. Diciamo che in questo periodo la cosa più importante è tornare davanti a un pubblico, far vedere le cose, far vedere dei corti, tornare ai festival, il festival è bello.